L'aeroporto cambia timone dopo tante peripezie. Soprattutto ha una nuova prospettiva, che noi partiamo dal presente, che è un presente importante, però per rilanciarci nel futuro e per dare a questo territorio delle opportunità magnifiche di crescita. Perché una delle scommesse che un territorio oggi deve fare è quella della raggiungibilità, quella delle infrastrutture e dei trasporti, che siano l'aeroporto, che siano la ferrovia, che sia all'autostrada, che sia su gomma, però una persona in Europa soprattutto deve sapere che per raggiungere Rimini, partendo dal suo aeroporto, può raggiungerlo in tre ore, quattro ore e soprattutto che non deve metterci otto ore per spostarsi, per esempio, da Milano arrivare qua. L'aeroporto per noi è diventato una struttura fondamentale perché, non solo per uscire dalla crisi, ma per uscirne più forti. E allora credo che quello che ci si prospetta col nuovo Consiglio d'amministrazione, con il nuovo Presidente, anche con la nuova compagine societaria che ci sarà uscendo dal concordato, sia quello davvero di diventare un pezzo forte del sistema aeroportuale italiano, ma soprattutto un pezzo forte, l'aeroporto diventi davvero una grande valvola per la nostra economia, per il nostro turismo, per i nostri investimenti e per la nostra gente. Se noi non capiamo questo, faremo un torto al nostro territorio. Devo ringraziare anche l'armonia di tutti gli altri attori che sono stati intorno a questa avventura, oltre ovviamente al Consiglio d'amministrazione precedente, al Presidente Masini, che voglio dire ha dato tanto di sé perché l'aeroporto arrivasse anche a queste possibilità, ma anche i nuovi attori protagonisti, che sono i creditori, che è il sistema accreditizio, incapitanato dalla Carin, che sono tutti gli altri nuovi attori che credono nel nostro sistema aeroportuale, che insieme a noi in questi mesi hanno creato anche questa nuova opportunità, questo nuovo Consiglio d'amministrazione, che è un grande Consiglio d'amministrazione, fatto da persone che sono quasi tutte nel campo aeroportuale e che sapranno sicuramente rilanciare il nostro aeroporto.